buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video allora affrontare le incertezze ritrovare il sorriso e aprirsi alla guida intuitiva superiore tendiamo a vivere il nostro mondo la nostra esperienza in esso spesso con una quota eccessiva di drammaticità e questa drammaticità questa questo eccessivo attaccamento al nostro senso di importanza sia personale sia relativo alle cose che viviamo ci chiude rimediabilmente a all'intuizione ci chiude a quel fluire spontaneo e meraviglioso che ci fa sentire uno con il potere dell'universo che ci fa sentire fusi con con la fonte quindi così ispirati al momento presente senza l'intermediazione del ragionamento e quindi in contatto con tutte le ispirazioni divine e questo questa drammaticità questa fatica con cui affrontiamo la giornata e le esperienze ci impedisce di vedere il lato il profondo delle cose ci impedisce di vedere la soluzione nascosta dietro a tutte le sfide che ci si presentano quotidianamente così possiamo imparare nuovamente ad abbandonarci e a renderci coscienti di un infinito potenziale che non è futuro non è lontano da noi non è distante ma è proprio qui presente se raggiungiamo il silenzio se ci permettiamo di essere uno stato di silenzio di vuoto di libertà dalle aspettative di libertà da dall'attaccamento a questo modo di vivere così costante così e così radicato nella mentalità umana cioè vivo preoccupandomi del domani vivo preoccupandomi di quello che sarà il passo dopo vivo preoccupandomi di quello che è stato ieri in realtà se faccio il vuoto di tutto questo mi permetto di essere semplicemente me stesso senza aspettative senza dover corrispondere alle immagini che il mondo ci proietta ad esempio e quindi trovare il sorriso in nel momento presente significa vivere con l'entusiasmo che ogni momento qualcosa può accadere senza aspettativa però cioè sapere che c'è un infinito potenziale ma viverlo con serenità e come possiamo fare questo se non uscendo da noi stessi cosa vuol dire uscire da se stessi vivere le esperienze momento per momento come se in realtà noi fossimo degli spettatori ma so che può sembrare difficile in certi casi ma un modo per riuscirci è sapere ogni momento momento per momento che questa vita non non è l'esperienza definitiva questo è un passaggio uno stato temporaneo invece tendiamo a viverla come se fosse l'unica possibilità e quindi con una quota di dramma e di drammaticità enorme in realtà è soltanto un passaggio e quindi realizzando che siamo infinito e che non abbiamo realmente nascita e morte possiamo fare un profondo respiro e svuotarci da ogni aspettativa noi siamo l'infinito intelligente questo infinito intelligente è intorno a noi è dentro di noi è ogni parte di noi quindi possiamo anche parlare con questo infinito intelligente all'interno delle nostre cellule ma anche nell'intero universo e quindi possiamo continuamente rispondere alla sfida che l'universo ci dà ogni giorno portandoci eventi e situazioni chiedendo a questo potere che condividiamo con l'intera creazione cosa posso fare in questo momento perché tutto ciò che che farò sia allineato con l'armonia e con la gioia e con la pace questa semplice domanda questo atteggiamento costante dichiara allo spirito al grande spirito che non importa ciò che accadrà non importa ciò che l'universo manifesterà in questo momento o tra un momento o domani io rimarrò in uno stato di presenza e questo stato di presenza mi aiuta a fare un sorriso e a sdrammatizzare la vita sulla terra cosa di cui c'è assoluta necessità l'umanità ha imparato a vivere questa esperienza terrena come se fosse una realtà statica oggettiva e immutabile nel suo nel suo scorrere in realtà ci sono molte possibilità e molte altre possibilità di vivere questa stessa esperienza ci apriamo a queste possibilità quando facciamo il vuoto quando siamo in uno stato ispirato cioè libero da paura libero da aspettativa libero da attaccamenti e il silenzio di cuore mente corpo è possibile non solo è auspicabile ma è anche possibile e non è un risultato che possono ottenere soltanto i grandi maestri o coloro che meditano 24 ore al giorno coloro che si ritirano nelle montagne è un risultato da che tutti noi possiamo conseguire praticando un po di disciplina la disciplina che dobbiamo praticare quella di distaccarci dal nostro senso di importanza personale più siamo preoccupati per noi stessi e pensateci tutte le cose che coinvolgono la nostra mente e che ci fanno ci alienano dalla da questo stato di presenza e di vuoto non sono altro che collegate al nostro senso di importanza personale cosa mi accadrà se lascio andare questa se non ho il controllo di questa situazione cosa mi accadrà se questa persona si allontana da me cosa mi accadrà se non ho il lavoro cosa mi accadrà se la mia famiglia non mi comprende cosa mi accadrà se 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 e questo senso di importanza personale così così vissuto in modo così drammatico così distorto ecco questo senso di importanza personale ci separa dalle ispirazioni divine dall'infinito potenziale e quindi se impariamo a lasciarlo andare a focalizzarci sul silenzio allora l'azione giusta l'ispirazione giusta la comprensione giusta quello che ci serve momento per momento arriva spontaneo perché l'infinito intelligente che organizza le galassie che organizza i pianeti che organizza i corpi umani che organizza ogni forma divina ha risorse sufficienti necessarie per svelare rivelare una un'infinità di alternative e sta a noi scoprirle ma senza aspettativa quindi è molto è molto è molto buona come cosa fermarsi cioè prendersi del tempo per ritrovare il sorriso prendersi del tempo per fermare il mondo interiore fatto di chiacchiere fatto di dialogo costante fatto di un incessante paragonare un incessante programmare un incessante calcolare quali sono le perdite i guadagni in ogni circostanza ecco prendiamoci un momento ogni ogni giorno ma anzi più momenti durante la giornata proprio per sospendere questo dialogo e rimanere semplicemente in uno stato di ascolto di silenzio di presenza nel quale riscopriamo questa nostra connessione con l'infinito e scopriremo che il divino ci parla e questo divino questo maestro interiore altro non è che l'infinito che dal profondo di noi stessi ci comunica l'ispirazione divina così se viviamo a ritmo con questa divinità se viviamo a ritmo con il fluire dell'universo tutto viene spontaneamente da sé allora beh sì importanti social poi hanno lo sai sono un po riflesso della coscienza collettiva in quanto ci rappresentano noi internet è un è un strumento potente ma al contempo riflette il nostro stato di coscienza e quindi un po un po come dappertutto anche anche nel social network scopriamo i nostri i nostri riflessi i nostri specchi le nostre responsabilità soprattutto vediamo ciò che accade nel mondo lo vediamo proprio riflesso anche nel social network che non è altro che che è uno specchio perfetto forse di quello che accade nel pianeta anche perché oggi credo che chiunque o quasi tutti a parte le persone magari in una certa età che sono rimaste legate a un sistema di comunicazione diverso che non hanno integrato questa modalità ma tutti tutto il mondo si muove con quest'onda va bene io spero che questo video possa essere stato utile a qualcuno di voi vi auguro una giornata di serena pace raccoglimento silenzio e disciplina questa parola che fa così rabbrividire il giorno d'oggi perché fondamentalmente l'umanità moderna è da un certo punto di vita un certo lato estremamente indolente e inconcludente dall'altro dall'altro lato estremamente ribelle cioè vorrebbe fare una rivoluzione costante però in realtà poi gli mancano gli strumenti quindi bisogna coniugare questi due lati cioè essere ribelli cioè non piegare la testa non accettare le regole disubbidire però al contempo avere disciplina per ricostruire ritemprare la nostra energia interiore disciplina significa che impariamo a focalizzare la nostra attenzione che impariamo a disperdere il chiacchierio mentale che non è detto che non ci sia perché il data che poi leggo la domanda di marina cioè il dialogo è il pane della mente cioè la mente dialoga ma quanta attenzione diamo questo dialogo così insignificante a volte rispondo a questo a questo questa domanda e poi vado si forse l'11 febbraio c'è qualcosa poi ti faccio sapere maria ma non è meglio l'importante è c'è quello che conta nella situazione della vita non solo tanto gli eventi in sé ma è la tua risposta alle situazioni quindi maggiore il tuo senso di importanza personale maggiore sarà il tuo coinvolgimento maggiore ti prendi sul maggiori maggiormente ti prendi sul serio e maggiormente sarai toccata da dalla persona che ti tratta male o ti tratta bene cioè il senso di importanza personale non riguarda soltanto gli eventi spiacevoli cioè una persona nella padronanza di sé è indifferente sia ai complimenti sia a il biasimo la critica perché perché sia 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 il biasimo che la critica possono toccare soltanto quella parte di noi che si ritiene estremamente importante e in realtà anche anche il senso di piacere o di godimento quando si riceve un complimento quando si viene approvati fa parte del senso di importanza personale una persona un essere nella padronanza di sé è indifferente a complimenti e critiche non perché i complimenti e le critiche non facciano non siano in qualche modo strutturanti per il mondo che ci circonda ma perché nei complimenti nelle critiche possono definire chi sei realmente nei complimenti nelle critiche possono dirti chi sei soltanto tu puoi farlo allora se dipendi dagli altri per il tuo senso di importanza personale o per definire chi sei vuol dire che non puoi ascoltare la voce profonda del tuo sé perché aspetti che il mondo ti dica ciò che sei ma in realtà il mondo esiste perché tu sei quindi sei tu che definisci il mondo con i tuoi pensieri allora diventa un circolo vizioso diventa una diventa un cul de sac diventa un un pass dal quale non se ne esce più va bene non si non è né tacere né cercare di capire il comportamento si tratta di trovare te stessa cioè sviluppa sviluppare una una maggior maggior senso di distacco dal tuo senso di importanza personale tutto ciò che che riguarda il senso di importanza personale è collegato all'idea che hai di te cioè io sono marilena con una personalità un corpo una famiglia e un contesto ecco vediti come qualcos'altro cioè come qualcosa che non ha inizio e non ha fine cioè come infinito potenziale ecco perché meditare è fondamentale perché meditando realizzi il corpo energetico meditando realizzi quel vero sé che non è legato a un modo di essere o a una personalità transitoria o a una situazione ma è uno stato eterno e questo stato eterno è libero da tutte queste cose per questo meditare è importante e per meditare intendo anche il silenzio interiore che possiamo ricavare quotidianamente momento per momento non per forza la meditazione intesa come mi metto in posizione del lotto e medito mezz'ora o un'ora ma anche proprio fare il vuoto mentale momento per momento di staccarmi dal mondo e dai suoi movimenti del suo chiacchierare va bene questo è fondamentale è veramente importante perché più siamo in equilibrio come dice anna più siamo presenti perché lorena leggo il tuo commento perché c'è ancora la condizione per cui lasci che il ruolo di madre ti definisca è questo perché sei identificata al ruolo di madre che è anche funzionale perché altrimenti non potresti farlo ma puoi vivere un duplice aspetto di questa verità e cioè osservare lorena che svolge il ruolo di madre ma tu interiormente essere sempre distaccata cioè riconoscere che lorena non è ciò che sei lorena in quanto personaggio del gioco del gioco divino può svolgere una marea di ruoli quindi quando ad esempio faccio il mio esempio senna è un personaggio senna può essere può svolgere il ruolo del servitore del risveglio o può svolgere il ruolo dell'operaio che fa che va o può svolgerli entrambi non facciamo altro che passare da un ruolo all'altro in realtà io non sono senna e questa consapevolezza di non essere senna mi permette di recuperare di recuperare la mia integrità mi permette di recuperare la mia impeccabilità e ristabilirmi nella mia disciplina perché questo in realtà sono soltanto dei ruoli che si interpretano e possiamo interpretarne molti man mano che ci muoviamo nelle possibilità della vita senza però rimanere incastrati in nessuno di questi ruoli quindi nel caso dell'amante nel caso del compagno nel caso del marito nel caso della madre o dei figli possiamo avere una doppia attenzione cioè avere due vie di osservazione osservare la parte che svolge questo sapendo sempre che ne siamo internamente e interiormente distaccati e questo distacco ci permette di recuperare energia tanta più energia abbiamo disponibile tanto più riusciamo a percepire il mondo nella sua vera forma nella sua vera natura e allora non ne siamo più condizionati infatti in oriente ma questo viene elencato in modo in sé esemplare in svariate tradizioni spirituali ma prendendo ad esempio la tradizione anche nella tradizione sciamanica è così prendendo ad esempio la tradizione orientale prendendo ad esempio il mio maestro yogananda lui si chiama era stato insignito di questo titolo paramansa perché paramansa significa cigno supremo cioè quella il cigno è quella si dice che sia capace di dividere il l'acqua dal latte e quindi di discernere il reale dall'irreale un paramansa è un essere che vive nel mondo ma non è del mondo quindi non è vive nel mondo ma non è toccato dalle cose del mondo la sua mente è come un nastro sul quale non restano impressioni impronte quindi si vivevano le cose ma non rimangono tracce per cui si rimane imprigionati nei tracciati neurali che definirebbero ciò che siamo questo quindi viviamo i nostri ruoli con interiore distacco ridendo anche di noi stessi ridendo di quanto siamo sciocchi a volte di quanto sennare sciocco a volte di quanto sennare sbadato a volte ridendo di questo ruolo ridendo di quanto si può essere illuminati ma anche totalmente imbranati al contempo di quanto si può essere illuminati e contemporaneamente anche tremendamente stupidi e di quanto il distacco da tutti i ruoli da tutte le definizioni ci permetta un'incredibile libertà esatto barbara viviamo i ruoli che è questo corpo chiamato a vivere questa mente chiamata a vivere a seconda del personaggio che dobbiamo interpretare nella realtà ma ripristiniamo la nostra fluidità di spostarci tra tutti questi ruoli tra tutte queste mitologie senza rimanerne imprigionati questa fluidità di spostarci all'interno diventando dei cantastorie nei cantastorie della nostra vita diventando dei gli autori del di questo sogno senza rimanere incastrati nelle nelle possibilità e nei ruoli che si interpretano molto importante questo punto di fluidità perché ci ci permette di diventare veramente di diventare veramente fluidi nella nostra vita si ridendo di noi stessi ridendo di quanto è limitata questa personalità che non può essere ciò che siamo pensate pensate a una cosa quando eravamo bambini eravamo in un modo poi siamo diventati adolescenti siamo stati in un modo un altro modo brava smagatresa scrivi la poesia e poi fammela fammela leggere che sono curioso e da ragazzini siamo stati in un modo da adulti siamo stati in un altro modo da anziani diventiamo in un altro modo la nostra personalità muta a seconda delle esperienze può essere la nostra vera natura qualcosa di così irrimediabilmente mutevole no ciò che noi siamo è questo senso di presenza a partire da cui ogni forma e sfumatura della personalità si manifesta ogni forma e sfumatura del mondo si manifesta cioè se noi non fossimo presenti come potremmo definire il mondo come potremmo sperimentare il mondo come potremmo parlare percepire ridere giocare o anche addolorarci per le cose il mondo è tale com'è perché noi siamo noi ci siamo e in base al fatto che noi siamo l'esperienza è possibile ma ce ne dimentichiamo ci dimentichiamo che l'elemento focalizzare il punto focale per cui il mondo esiste che noi ci siamo allora dimenticandoci di questo senso di sé di questa presenza di questa costante presenza ci identifichiamo con tutti i ruoli e perdiamo e perdiamo la direzione noi possiamo spostarci a cavallo di tutte le realtà ad esempio la nostra spina dorsale è un ascensore va bene è come una scala verso il cielo e verso l'inferno verso il paradiso e verso l'inferno la nostra spina dorsale e il nostro campo aurico contiene tutti i mondi e tutte le realtà noi ci spostiamo all'interno di esso compiendo dei movimenti questi movimenti possono essere minimi o possono essere enormi ad esempio quando passiamo da uno stato di gioia o di pace a uno stato di angoscia di frustrazione stiamo compiendo degli spostamenti all'interno della nostra nel nostro campo energetico sono spostamenti minimi se non riusciamo a essere consapevoli di questi spostamenti e a ridistribuirli a seconda del nostro intento come possiamo pensare di fare spostamenti molto più grandi come essere illuminati o andare in un'altra realtà come facciamo quindi dobbiamo imparare a padroneggiare questo spostamento come smantellando l'opinione che abbiamo di noi stessi cioè tutto ciò che noi vediamo è falso è vero a un certo livello ed è falso a livello successivo comprendete quello che voglio dire cioè ci viene detto che i nostri corpi sono fatti così che sono fatti colà che se abbiamo una patologia è definitiva ci viene detto che se la vertebra si è spostata è molto difficile cambiare questo cioè in realtà noi sappiamo che a livello subatomico l'energia questo corpo energia potenziale indifferenziata e che è più vuoto che pieno eppure attraverso la nostra comprensione della realtà cioè la valigetta che ci è data e che abbiamo mantenuto dalla nascita fino ad oggi non riusciamo a sbloccare questo stato di cose perché siamo completamente focalizzati su questa posizione fissa del nostro corpo energetico dove la realtà estremamente statica e dolorosa ma perché rimanere in questa posizione cioè nel momento in cui tu ti accorgi che stai male non restare in quella posizione sfida il possibile noi siamo qua per fare a pezzi per distruggere tutti gli attaccamenti siamo qua per sapere una cosa una volta anni fa quando facevo primi video ero molto occupato anche a pensare alle mie immagini cioè se i video arrivavano giusti se come mi vedevo eccetera adesso non me ne frega niente non me ne importa niente questo perché a un certo punto l'immagine di me si è frantumata cioè si è fatto a pezzi il senso di importanza personale e quindi non ha tanto importanza non è tanto importante il soggetto cioè non è tanto importante l'individuo cioè noi non è tanto importante questa maschera che indossiamo cioè il voler sembrare accurati il voler sembrare belli fisicamente il voler piacere agli altri o il piacere a noi stessi non è questo l'importante l'importante è l'infinito che siamo tanto comunque questa allora potremmo fare un giorno quando sarà il momento sarà arrivato il momento per noi di lasciare questa vita potremo fare quello che hanno fatto gli anasazi quello che hanno fatto i maia alcuni una parte dei maia quello che hanno che hanno fatto gli abitanti della terra interiore quello che hanno fatto altre altri esseri che si sono resi talmente liberi da poter dissolvere questa forma e poterla riconsegnare all'infinito lasciandola completamente liberi e potremmo farlo potremmo farlo ma dobbiamo fare fare a meno del nostro senso di identità personale cioè fare a meno lo specchio non ci dice la verità lo specchio non può dirci la verità e per specchio intendo tutti gli specchi non ci può dire la verità ci può dire soltanto ci lo specchio ci dice soltanto quello ci da una serie di riflessi che ci dice che ci dicono qual è il personaggio che stiamo interpretando ea cui ci stiamo attaccando in questo momento nel mondo in realtà quando siamo vuoti dalle immagini di noi allora siamo capaci anche di attingere a un altro personaggio crearlo temporaneamente e usarlo giocare senza però rimanere bloccati in quel personaggio non fammi provare a sentire è complicato perché metti a paragone vedi la complessità la posizione fissa il ruolo fisso il limite il restare incastrati all'interno di una personalità specifica di un modo di essere sussistono quando vedi la distinzione tra marilena e tra senna quando vedi e osservi la realtà a livello ordinario se lasci andare l'idea di te stessa facendo il vuoto e quindi ti poni in uno stato in cui ecco quello di cui è c'è bisogno e dire sai che c'è non me ne importa niente accada quel che accada non me ne frega niente è questo affermare a te stessa continuamente finché non diventa reale per te non me ne importa niente questa mania del controllo dobbiamo essere capaci di dire vada tutto a rotoli non me ne importa niente pensa che liberazione poter dire vada tutto a rotoli che vada tutto a rotoli se è così che deve andare non me ne importa niente non me ne importa niente di essere illuminato non me ne importa niente vada tutto a scatafascio va bene sono libero tanto comunque questa personalità la dovrò lasciare questo modo di essere lo dovrò lasciare e allora che vada tutto a rotoli se deve andare tutto a rotoli intanto avrò conquistato me stesso e avrò mi sarò liberato di questo senso di controllo così così assurdo tanto comunque non controlliamo l'universo perché momento per momento tutto accade spontaneamente distruggiamo il senso di controllo attraverso questo essere liberi sono libero anche se il mio corpo è devastato da una malattia terribile sono libero cioè c'è la malattia ma io non ne sono toccato c'è il dolore c'è il senso di frustrazione lo avverto perché il campo energetico è collegato alla mente è collegato al corpo ma io sono interiormente libero un consiglio che danno i maestri orientali ad esempio kriyananda diceva vivi come se non accadesse a te cioè vivi come se vedessi la storia che sta accadendo come se accadesse a un altro vivila con distacco i maestri cioè gli oggi praticano questo karma yoga cioè questo dare tutto quello che accade alla divinità cioè mi disinteresso di tutto non sono l'autore delle azioni è tutto tuo l'hai fatto tu fino a che non riconosci che sei vuoto sì il controllo è figlio dell'insicurezza e certo della paura e c'è proprio un livello essenziale nel quale tutto inizia cioè l'illusione la la mula maya radice dell'illusione è l'amore per se stessi ma non l'amore per se stessi in quanto l'amore impersonale perché tutti vorrebbero scambiare l'amore per se stessi come un amore impersonale allora dicono bisogna amare se stessi ma l'amore che che si sta definendo in realtà è un amore estremamente personale ed egoistico la radice dell'illusione è l'amore per il senso dell'identità personale e per il senso di importanza personale questo non è vero amore questo è un amore personale l'amore impersonale non ha niente a che fare con questo smetto di preoccuparmi di me stesso e ritrovo il sorriso se dio non sorridesse se dio non avesse un senso di comicità estremamente spiccato ma come potrebbe esistere tutto il dramma che esiste siamo noi con nostro senso di importanza personale che diciamo sta capitando proprio a me cazzo sta capitando a me ma in realtà se dio guarda l'universo come un uno spettatore appunto e quindi ha estrema comicità non riesce non ha un senso di identità personale e lo stesso siamo noi perché noi siamo questa forza impersonale che si sta semplicemente fingendo personale calandosi in questo dramma in un modo estremamente drammatico va bene penso che abbiamo fatto show abbastanza vi auguro una buona giornata di nuovo ciao ragazzi buona buona osservazione del dramma e un sorriso a tutti voi ciao